Il ballottaggio era praticamente scontato alla vigilia del voto. A Chieti, però, meno scontati, erano i 6 punti e mezzo di distacco tra il sindaco uscente Umberto Di Primio, rappresentante del centrodestra, e Luigi Febo, portabandiera del centrosinistra, orfano dell'ala cosiddetta radicale che ha scelto di correre da sola. Al secondo turno, dunque, si riparte praticamente dallo 0 a 0 e a contare più di ogni comizio, più di ogni promessa elettorale saranno gli apparentamenti. L'ago della bilancia potrebbe essere Bruno Di Paolo, che strizza l'occhio a Febo e al PD, ma non chiude la porta al suo ex sindaco Umberto Di Primio. Il centrodestra è pronto a dialogare con chiunque voglia condividere il nostro progetto e abbia in mente una sola cosa, che Chieti è protagonista e non è succube di nessuno. Noi pensiamo, come ho detto prima, a tutte quelle forze che vogliono bene la città, come l'hanno dimostrato, anche in questo caso facendo una propria campagna elettorale su dei progetti. Su dei progetti si può costruire un progetto e un futuro per la città. L'altra Chieti, con Raimondi, ha già dichiarato di non voler fare apparentamenti. Il Movimento 5 Stelle con Argenio è sulla stessa lunghezza d'onda. I grillini faranno un'opposizione senza sconti, qualsiasi sia il nuovo primo cittadino. Il Movimento 5 Stelle ha una posizione precisa per quanto riguarda gli apparentamenti. Noi non ne faremo con nessuno. Libertà di coscienza, ma appunto se qualcuno ha votato Movimento 5 Stelle sono convinto che non voterà né per l'uno né per l'altro schieramento al ballottaggio.